Ciao amici, buonasera, benvenuti, siamo al Fellini, siamo in compagnia di una bellissima signora che questa sera presenterà la sua nuova collezione di abiti, qualcosa di bellissimo, abbiamo visto delle anteprime, vorrei adesso però lasciare la parola a lei così ci dirà qualcosa di quello che fa, di quando è nato, di che cos'è, creare un abito. Buongiorno a tutti, allora io mi chiamo Anna, sono nata nell'89 quindi sì sono giovanissima come molti me lo dicono, ho 27 anni, ho iniziato a creare abiti all'incirca 5 anni fa, sono figlia e nipote d'arte perché mia nonna creava abiti e mia mamma dopo di lei, ho un'inaugurazione praticamente a pochi giorni perché si tratterà dell'8 di ottobre per il nuovo hotelier. Siamo quasi invitati praticamente, le telecamere saranno invitate. Certamente, e nulla, creare un abito è una cosa che ti esce dal cuore, non puoi immaginare qualcosa di scontato, non puoi immaginare qualcosa di ordinario, io mi sono sempre ispirata ai grandi stilisti di una volta quindi può essere Valentino, Chanel, non stilisti di oggi, per il resto cosa posso dire, è una passione, è una passione che coltivo fin da piccola. Benissimo, penso che vada bene così, sono quelle cose, poi li vedremo a sfilare queste ragazze, vedremo a sfilare questi abiti e saranno poi su Youtube a disposizione, magari se hai una pagina ce la comunichi così i nostri amici possono andarle a vedere. Ho la pagina Facebook che è Claudian Style. Ciao dal Fellini. Ciao. Ciao.